Chi dice primo maggio dice vacanza, ma non la pensano più così i commercianti bolsanini che in occasione della festa del lavoro hanno annunciato di preferire quest'anno l'apertura dei negozi. E la sfida con Comune, Unione Commercio e Sindacati è già aperta. L'Associazione Bolsanina dei Negozianti ha presentato al sindaco Luigi Spagnoli e al presidente dell'azienda di soggiorno Dado Duzzi la richiesta ufficiale di deroga per gli esercizi del centro. E l'occasione sarebbe ghiotta data la concomitanza con la festa dei fiori che si svolgerà quest'anno nel fine settimana tra sabato 30 di aprile e proprio domenica 1 di maggio. Ma il Comune fa sapere che la richiesta verrà respinta, face perplessi anche al sindacato che di altre aperture speciali non ne vuole sapere. Sì diciamo che come giunta non ci siamo particolarmente espressi su questo tema ma mi esprimo io. Io sono assolutamente contrario perché ritengo che la domenica sia un giorno da consacrare ad altre cose che non sia l'acquisto nei negozi. Per acquistare nei negozi ci sono tanti altri giorni, compresi i sabati che come sappiamo sono in massima parte per moltissime persone libere dal lavoro e dalla scuola quindi è un tempo che si può utilizzare. La domenica ha una valenza ovviamente di tipo sacro per chi crede nella religione cattolica ma è soprattutto anche un momento nella nostra terra per mantenere in vita tradizioni tipicamente domenicali che sono lo stare insieme, che sono l'uscire dalla città, che sono il cercare delle opportunità per conoscere meglio la nostra terra e per viverla di più. Dopotutto l'apertura domenicale dei negozi si decide in piazza municipio. La normativa provinciale consente tre deroghe a scelta e l'apertura in occasione delle fiere ma il sindacato della Filcams CGL nella persona di Maurizio Surian fa sapere che nessuna risposta provinciale in questo senso è mai arrivata. La posizione generale sembra in ogni caso abbastanza chiara, le aperture domenicali sono già troppe. Il primo maggio, anche secondo l'azienda di soggiorno, deve rimanere festa del lavoro oltre che gioia per chi ama il riposino autorizzato almeno una volta l'anno. Chi vuole tenere aperto è stato detto utilizzi una delle tre deroghe straordinarie a disposizione.